Gli uomini della polizia stradale di Biele durante un controllo di vigilanza nella costa tese hanno fermato e controllato un'auto Ford Fiesta che a Bordeaux aveva una 65enne di origine tunisine e una 43enne di origine turche. Da un controllo più affrofondito della merce trasportata all'interno della vettura è emerso che nel baule c'erano circa 45 kg di carne da kebab congelata trasportata in pessime condizioni igieniche. Gli agenti della polizia stradale hanno così proceduto al sequestro della merce facendo anche intervenire il personale della SL di Biela. Gli ispettori infatti hanno proceduto alla confisca e all'immediata distruzione della carne contaminata. Inoltre è scattato un controllo presso il rivenditore di kebab di Biela che aveva commissionato il trasporto con destinazione un altro esercizio commerciale della Valsesia. Dal controllo non sono emerse irregolarità. I due uomini sono comunque stati sanzionati con ammente che vanno dai 1000 ai 5000 euro.